Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Stasera sono qua con una novità del mio canale che non ho voluto neanche annunciare sui social, ancora per adesso, anche perché non ho avuto neanche tempo oggi e gli altri giorni e poi è stata una cosa inaspettata perché io questo pacco lo aspettavo per venerdì, in teoria mi sarebbe dovuto arrivare venerdì da come mi notificava Amazon e niente, invece mi è arrivato oggi e io ho avuto già la brillante idea di fare questo video e di appunto registrare questo primo video unboxing con tutorial della prima configurazione del dispositivo ed è il vero e primo unboxing sul mio canale di YouTube, in quanto da tempo prima non ho mai portato unboxing o altre cose di questo tipo sul mio canale, ci sono solamente tutorial di programmazione eccetera eccetera. Ho deciso di aggiungere comunque anche queste tipologie di video perché comunque ritengo che siano anche abbastanza utili e carine per comunque muoversi anche a livello pratico, magari anche sul lato hardware e non solo software. Quindi andando subito comunque al sodo, il dispositivo che ho deciso di recensire e di appunto apportare come tutorial di configurazione di questo dispositivo in questo video è il Raspberry Pi modello 3B, ovvero l'ultima versione di Raspberry Pi, non so se tutti ovviamente chi mi segue conoscono questo dispositivo ma comunque da questo video dovreste avere modo appunto di conoscerlo e di vedere appunto poi come appunto esso venga configurato inizialmente una possibile configurazione, io andrò a fare la mia configurazione preparandolo allo sviluppo, cioè per poter sviluppare con questo dispositivo e appunto potete anche così vedere le caratteristiche di questo ultimo modello così da scegliere se acquistare la versione precedente o qualsiasi altra versione oppure quella che ho acquistato io in questi giorni. Quindi intanto prima di passare al video vi dico che comunque sto girando questo video con il mio Huawei P9, il mio cellulare perché ho bisogno comunque di appunto riprendere anche i vari componenti del video, quindi il Raspberry eccetera eccetera per farvi vedere anche la configurazione e altra cosa intanto colgo l'occasione per ricordare a tutti che potete iscrivervi anche al mio canale di Telegram, di Word Tecno. Nei giorni scorsi, nelle settimane scorse ho aggiornato un po' già anche la grafica del mio sito web, ci sto lavorando quindi comunque sono attivo su molti fronti, come vi ho già detto in alcuni video di YouTube quando ero tornato che comunque mi sarai fatto più presente in questo periodo e avrai portato novità abbastanza belle tra cui questa proprio di stasera inaspettata appunto perché non ha annunciato a nessuno questa sia per via di appunto impegni quindi poco tempo ma anche perché è stata una cosa voluta ecco volevo portare direttamente il video e annunciare poi questa news dopo aver già pubblicato il video. Bene, passiamo al video e vi faccio intanto vedere la scatola e quello che c'è all'interno non vi aspettate chissà cosa perché ovviamente il Raspberry è una scheda elettronica simile ad Arduino per chi conosca Arduino, per chi non lo conosce comunque si tenga conto che è una scheda elettronica anche se il Raspberry essendo un progetto più evoluto a livello hardware invece di appunto magari l'Arduino che è molto più base ha una componentistica più avanzata, scusate se qualche volta mi inceppo quelle parole ma è anche la stanchezza e niente quindi praticamente più che essere visto come una scheda elettronica possiamo più definirlo quasi come un mini computer a tutti gli effetti in quanto ha un modulo di RAM proprio che tra l'altro è una RAM da 1 giga con una frequenza abbastanza elevata cioè con cui comunque si riescono a effettuare operazioni un po' più complesse che quelle che magari si possono fare anzi che assolutamente non si possono fare con Arduino e con altre magari schede elettroniche quindi sì, il Raspberry non è altro che questo, è una scheda elettronica avanzata scheda elettronica perché è un formato di mini computer essenzialmente con componenti saldati su questa piastrina che adesso andremo a vedere e che appunto ci permettono di con questo oggetto ITACH cioè il Raspberry di andare a costruirci dei progetti in ambito sia comunque industriale, aziendale o comunque da makers professionisti di qualsiasi genere quindi anche liberi professionisti o comunque anche per hobby cioè ad esempio chi comunque ha già anche un altro lavoro volendo si può mettere a studiare queste nuove tecnologie e decidersi di costruirsi qualche cosa ad esempio non so un drone o una qualsiasi altra cosa con questi dispositivi quindi poi magari sul mio canale più avanti porterò altri video in cui amplieremo questi concetti perché appunto non ho mai deciso di portare video su queste cose quindi è anche questa un'altra novità detto questo appunto passerai finalmente a farvi vedere qualcosa quindi prendo il mio cellulare vi giro dovrei riuscire a girare la videocamera penso sì diciamo che devo stoppare questo video e girarla e quindi passarvi alla parte appunto di tutorial quindi stopperò questo video in cui mi sono ripreso io e poi dopo quando appunto metterò insieme tutti i pezzi in modo da farvi avere il video completo ci vediamo tra poco eccomi qua di nuovo ragazzi sono tornato dopo un po' perché ho dovuto fare tutto il processo di formattazione e setup della micro SD per portarvi appunto saltando tutta la parte di appunto settaggio della SD eccetera che comunque potete trovare benissimo su internet come si fa con le varie versioni dei Raspberry una operazione molto semplice ci sono svariati software sia per formattare che montare immagini di sistema su una SD quindi quella me la sono risparmiata altrimenti il video diventava lungo e noioso e comunque mi avrebbe portato via anche troppo tempo ecco quindi diciamo che ho fatto tutta la parte appunto di formattazione e installazione di knobs che poi vi rilascerò i link di questi file se volete seguire la mia strada altrimenti potete appunto scegliere tra i svariati tutorial che comunque mostrano come effettuare questa operazione scegliere il sistema che voi volete tra i vari sistemi installarlo e configurarlo come vi pare piace io in questo video vi faccio vedere comunque l'installazione di Windows 10 IoT Core che ho voluto provare e prima di iniziare vi voglio appunto far vedere il nuovo Raspberry allora nella scatola vediamo che la scatola è questa la scatola del nuovo Raspberry che ho acquistato in questi giorni non è nulla di particolare anche al suo interno non c'è altro che i manualetti qua che adesso vi prendo un attimo questi manuali qua che vedete questi manuali di guida e di istruzione e la scatola che conteneva poi invece il Raspberry questa scatola qua di cartone quindi niente appunto di particolare e strano tutta manualistica e basta perché il pezzo forte è quello che c'è all'interno l'altra scatola che vedete qua di fianco ve l'ho voluta prendere perché è la scatola della versione precedente di Raspberry Pi del quale io ho due modelli in casa sempre lo stesso modello Pi 2 e Model B ne ho due di questo modello qua uno mi è stato dato dal mio istituto scolastico che ho frequentato fino all'anno scorso in cui mi sono diplomato che ho utilizzato per il progetto della tesina che riguardava un progetto di domotica come vedete la scatola è molto simile a quella nuova e appunto mi è stato poi rilasciato per continuare il progetto anche dopo la scuola quindi mi è stato praticamente regalato e nulla il pezzo forte come vi stavo dicendo questo è uno dei modelli uno dei due modelli B2 che ho questo qua tra l'altro scusate che mi metto un attimo vi attivo il flash altrimenti sicuramente non vedete niente questo qua è uno dei modelli 2 che tra l'altro è proprio quello che mi è stato rilasciato dalla scuola come vedete io mi sono fatto anche un box sono fatto stampare un box con la stampante 3D per contenerlo e questa qua è una penna USB WiFi infatti adesso andremo a spiegare invece che il modello 3 ha migliorato anche questa cosa in confronto al modello 2 e niente questa è la scheda modello 2 è una delle due che ho in casa un'altra ce l'ho in camera giù di mia mamma che comunque li sto utilizzando per altre cose momentaneamente ho preso proprio il modello 3 invece per utilizzarlo per sviluppare progetti e cose simili mentre questi li sto utilizzando con altre tipologie di progetti quindi non riguardano l'IoT ovvero per lo sviluppo di cose intelligenti tipo come droni IoT sta proprio per quello Internet of Things cioè Internet delle cose ovvero i dispositivi intelligenti come gli smartwatch eccetera passiamo al modello 3 come vedete il modello 3 è questo quello che vi viene fuori dalla scatola simile molto alla versione precedente la potenzialità che lo differenzia dalla versione precedente è proprio l'integrazione del Wi-Fi e del Bluetooth nativi all'interno della scheda quindi non abbiamo più bisogno di installare Bluetooth sia chiavette Bluetooth che Wi-Fi esterne quindi molto più comodo questa chiavette che vedete qua invece è una tastiera USB cioè Bluetooth Wi-Fi che mi serve comunque wireless quindi mi serve per controllare a distanza il Raspberry per poter poi andare adesso andare a fare quella configurazione del sistema o attraverso la micro SD che vedete inserita qua questa piccolina qua nera che vi sto indicando da 32 giga livello 10 che la consiglio molto perché comunque aumenta le prestazioni non so se ve l'ho già detto all'inizio del video ma comunque vi consiglio di procurarmi una così e niente le componenti cioè le caratteristiche di questo la componentistica di questo Raspberry Pi nuovo appunto abbiamo un modulo Wi-Fi Broadcom da una frequenza abbastanza buona di connessione quindi mi sa che se non sbaglio sia una 300 300 qualcosa quindi molto buona come come connessione Wi-Fi abbiamo una scheda Wi-Fi eh scusate scheda Bluetooth integrata sempre come quella Wi-Fi ed è una 4.0 o 4.1 non ricordo comunque molto buona anche il Bluetooth e come altra componentistica abbiamo sempre i 40 pin GPIO per collaudare via seriale altre componenti quindi appunto realizzare progetti specifici abbiamo un processore migliorato da 1,2 gigahertz di frequenza si può arrivare ad un overclock maggiore volendo del modello precedente chi comunque vuole fare l'overclock non è obbligatorio però è fattibile ha comunque invece invece di essere un dual core è un quad core come diciamo come gestione del dei thread del del processore e niente di altro non penso che ci sia abbiamo la solita componentistica per agganciare anche altri moduli questo è il modulo per connettere un display touch screen qua abbiamo un modulo cioè un un display port per la camera quindi volendo possiamo agganciare una videocamera al nostro una webcam o comunque una telecamera al nostro raspberry abbiamo le solite quattro port USB la ethernet LAN e l'HDMI che infatti ho collegato al mio televisore come vedete che è stato trasmesso qua l'HDMI comunque standard 2.1 abbiamo migliorato un po' troviamo migliorato il come si dice la porta micro USB per la per la corrente quindi c'è un minor spreco di corrente è stato un po' migliorato e abbiamo anche migliorato lo slot per la micro SD che adesso non ha più l'incastro con il click ma è fisso quindi c'è meno diciamo come dire prima si faceva un po' più difficoltà ad inserire ed estrarre la scheda invece adesso molto più comodo perché è stata risistemata un po' però per il resto non abbiamo nient'altro come componentistica da da differente dalle versioni precedenti abbiamo un giga di RAM sono dimenticato di dirlo come il vecchio modello quindi diciamo che è stato migliorato un po' il processore e qualcos'altro ma è molto simile alle vecchie versioni se non proprio per le due caratteristiche più importanti che lo differenziano del tutto ovvero il wifi e il bluetooth integrato quindi comunque maggiore efficienza e gestione dei vari progetti perché comunque ci toglie a noi tutti sviluppatori diciamo quella parte di integrazione di wifi bluetooth magari via seriale o di altro genere quando andiamo a sviluppare cosa che fino appunto alla versione precedente dovevamo comunque fare noi sviluppatori quindi magari ci richiedeva anche più tempo l'integrazione di un determinato di una determinata parte di progetto e niente detto questo era diciamo come dire il riassunto di che cos'è e come è stato migliorato il nuovo raspberry pi che cos'è comunque penso che molti di voi lo sapranno già ma come avete potuto già notare è appunto come ho detto un po' all'inizio del video può essere vista come una scheda elettronica che permette di sviluppare svariati progetti hardware e anche software ovviamente perché dopo possiamo collaudarlo via sistema operativo come vedete qua dalla schermata qui davanti a noi che adesso andiamo a configurare e ovviamente può essere utilizzato anche come un mini pc o perché no come un box media center per tv cosa che io sto facendo con questo qua piccolino che è altro raspberry pi 2 che avete visto mentre l'altro sì comunque anche l'altro che ho in casa lo sto utilizzando per lo stesso motivo ho collegato entrambi a due tv diverse questa è in camera mia quella è in camera mia mamma e lo utilizzo per questi motivi cioè nel senso mi sono creato dei media sharing dove con un video player posso sia collaudare via streaming in casa connessi come un server locale i vari video trasmetterli tra le varie tv eccetera ma posso proprio anche utilizzarlo per non so andare online e vedere video da youtube eccetera eccetera comunque non ci interessa adesso questo andiamo a fare la configurazione quindi avendo collegato la tastiera wireless ovviamente dovete procurare quella perché non è assolutamente mica integrata quella andate poi appunto a collaudare il tutto come vedete io qua mi sto spostando lo schermo non so se vedete la freccetta ma si dovrebbe vedere comunque sia qua chiudiamo che ci dice ci dà un messaggio di errore iniziale che ci dice non trova nessun wifi ovviamente dobbiamo connettere il wifi quindi andiamo a selezionare il mio wifi di team metto un attimo la password torno tra qualche secondo il tempo di configurare un attimo queste piccole cose e ci rivediamo ok ci sono come vedete qua dalla schermata sono riuscito a connettermi il messaggio di errore è scomparso ci ritroviamo davanti questa questa schermata dove possiamo andare a scegliere noi il sistema operativo da andare a installare sul nostro raspberry abbiamo tutti i svariati sistemi che vogliamo tra cui come vedete qua abbiamo raspbian che viene raccomandato di serve comunque è il sistema dedicato espressamente dagli sviluppatori di raspberry al raspberry è proprio il suo sistema si chiama infatti raspbian ed è una versione di linux basata sulla distribuzione debian debian jesse 8.5 comunque l'ultima versione se non ricordo male abbiamo poi library elect che è diciamo il vecchio progetto che poi si è trasformato invece in osmc e quindi appunto sono due media center diversi uno è la versione più avanzata dell'altro osmc è la nuova versione più avanzata e library è un fork diciamo della della nuova versione anzi no scusate osmc è il fork della versione di library che ci permettono di gestire i media center infatti io utilizzo tutte e due le versioni su questo raspberry pi qua ho il library mentre l'altro lo smc e permettono di gestire un ambiente media center le altre versioni abbiamo una raspbian light quindi senza interfaccia grafica ma come versione minimale abbiamo l'h che è una distribuzione per emulazione retro data partition quindi appunto per avere solamente una partizione formattata per dati quindi possiamo scegliere svariate comunque tipologie di sistema io andrò a selezionare quella di windows 10 quindi torno tra poco quando passeremo all'altra schermata eccomi di nuovo come vedete qua mi è comparso messaggio di conferma dopo aver selezionato il sistema che volete date yes e vi partirà praticamente il processo di installazione scaricherà dal server tramite knobs e installerà il sistema da voi scelto qua in basso come voi vedete potete volendo anche cambiare la lingua e la tipologia di tastiera del del sistema scusate un attimo mi ha dato un errore cerco di capire un attimo che cos'è perché non ho mai utilizzato knobs per l'installazione e torno subito da voi allora ragazzi ci tenevo a dirvi cioè ho stoppato il video di prima in quanto mi è comparso quell'errore e ahimè cose che capitano però ahimè è capitato proprio durante questo video non volevo che andasse così perché sicuramente avrei voluto concludere con voi già da questo video e non dover tornare ma a quanto pare tornerò domani per portarvi appunto la configurazione il setup di tutto il processo di formattazione cioè diciamo di installazione di sì di una distribuzione linux su su raspberry pi o comunque sulla sulla versione di windows 10 in quanto knobs prima e che appunto io non ho mai utilizzato questo strumento in quanto ho sempre eseguito installazione tramite rufus della dell'immagine scritta direttamente sulla sd card e quindi niente mi ha dato un problema e praticamente dopo dopo quel problema lì non mi funziona non mi riconosceva più non so perché la la scheda wifi del all'avvio di knobs quando io ho riavviato il raspberry staccando la la corrente riattaccandola per riavviarlo dopo da lì dopo vari riavvi mi continuava a dire interfaccia wifi non trovata quindi sicuramente sarà stato un problema di knobs sarà stato configurato male come l'ho configurato io prima quindi ho deciso di spostare il video di configurazione della del sistema a domani vi farò un altro video tenete questo video comunque buono per comunque l'unboxing e la presentazione appunto di questo dispositivo poi domani insieme ci rivediamo per vedere l'installazione del sistema e la prima configurazione di raspberry versione 3 e domani vi farò sapere dopo la pubblicazione di questo video quindi o stasera o comunque domani vi farò sapere poi che sistema andremo a installare utilizzare sceglierò dopo comunque aver valutato un paio di cose se usare la versione di windows 10 che volevo utilizzare in questo video o altrimenti fare l'installazione di raspbian e quindi farvi vedere l'installazione di una distribuzione linux che tra l'altro è quella dedicata proprio a raspberry quindi poi vi farò sapere questo tramite i social eccetera io mi scuso ancora per questo piccolo gap ma non me l'aspettavo neanche io in quanto comunque è stata tutta una sorpresa questo video come vi ho detto all'inizio in più è stata una sorpresa che raspberry mi sia arrivato proprio oggi che comunque avevo già altri progetti per oggi quindi vi ho portato questo video tagliando via del tempo ad altri miei lavori altre mie cose da fare però vabbè è una cosa che ho scelto io quindi non è sicura colpa vostra quindi non vi sto sicuramente incolpando tranquilli era solo per dire che comunque non mi aspettavo che mi potesse succedere questa cosa qua proprio durante il video quindi mi scuso per questa cosa e comunque tranquilli che domani tornerò con il video per completare l'intero tutorial su questo unboxing del raspberry pi 3 vi ringrazio di essere stati qui con me spero che il video vi piaccia comunque scusate ogni tanto sia me che mi inceppo con le parole ma è dato l'orario la stanchezza c'è ancora altra cosa da andare a terminare però vabbè e scusate se comunque con la videocamera ogni tanto ho ripreso tastiere cioè comunque c'è stata una una ripresa un po' squilibrata ma vi ripeto ovviamente avendo solamente due mani e dovendo aprire la scatola del raspberry inquadrarlo farvi vedere l'SD quindi è normale che succeda questa cosa comunque il video in generale dovrebbe vedersi abbastanza bene e comunque quello che conta è la sostanza ovvero il tutorial in sé l'unboxing quello che vi ho detto su raspberry pi i suoi possibili utilizzi e quindi vi invito comunque già ad andarvi a documentare dopo aver visto questo video e domani completiamo il tutto io vi ringrazio ancora vi auguro un buon proseguimento ciao ragazzi ciao